ciao raffaele che abbiamo raggiunto nella nostra magnifica e dir poco beauty della lingerie ovviamente mi faccio sempre una panoramica perché c'è ma ancora qualcuno che non la conosce noi la facciamo la mostriamo per chi non può venire dal cellulare la facciamo gli facciamo la panoramica ascolta parrucche oggi dobbiamo parlare di parrucche riccia è tipo come quella lì magari mostrami qualcosa perché i travestimenti sono sempre molto 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 richiesti noi ce le selezioniamo apposta e te le ho messe la solana guarda poi vedo che ci stanno davvero tantissimi 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 modelli senti ma dove le troviamo la che è che non poteva mancare allora le trovi dei nostri store accasso del polsone è sul sito google il tempo dell'era scuola non mi guardare così no 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 per l'amor del certo sembra vera? verissima ma sembra fatta apposta per te soprattutto allora voi quando venite qua la potete quindi acquistare da qua oppure se non potete venire come dicevi prima che stavi mostrando la nostra boutique possiamo spedire se ci spediamo anche questa roba di ultimo spediamo a casa facciamo consegna a domicilio e diamo la possibilità del pagamento in contrasse allora facciamo una cosa a tutti i clienti che ordinano la parrucca una delle nostre parrucche gliela consegnerai tu con questa parrucca va bene vengo io a casa sto così col pacco anonimo il segno di riconoscimento va bene spuntate da questa cosa se volete ok? ti aspetta ragazzi ciao da fare con tutte